Adesso ci spostiamo a Caronia perché oggi pomeriggio il procuratore di Patti ha compiuto un sopralluogo sul ritrovamento del corpo senza vita di Viviana Parisi, intanto si apprende in un video che è finito agli atti dell'inchiesta che la mamma era assieme al bambino, al piccolo Gioele, di cui non si hanno più notizie. Per il decimo giorno consecutivo le ricerche del piccolo Gioele non hanno portato ad un esito positivo. Il lavoro di vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, polizia e finanza si sta concentrando nelle campagne di Caronia vicino al ritrovamento del corpo della madre e da Sant'Agata di Militello. Sono state disboscate diverse porzioni di territorio man mano che si battono le zone, ma finora le ricerche sono purtroppo senza esito. Nel pomeriggio, altro sopralluogo del procuratore capo di Patti, Angelo Cavallo, nel luogo dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di Viviana Parisi, sono stati ispezionati il traliccio ed i cavi dell'alta tensione. Il procuratore si è poi recato nel punto dove si coordinano le ricerche, restando per qualche minuto nella postazione fissia dei vigili del fuoco, quindi è andato via. Il punto delle ricerche è stato anche al centro, di un vertice in prefettura Messina, di tutte le forze impegnate per decidere le strategie di ricerca nei prossimi giorni. Si è parlato anche di quei 22 minuti che la donna ha trascorso a Sant'Agata di Militello e lì potrebbe esserci qualche risposta. Gli investigatori stanno analizzando tutti i video delle telecamere di videosorviglianza private che si trovano a Sant'Agata di Militello, un lavoro lungo e certosino ma dal quale è venuto fuori qualcosa. Un video infatti riprenderebbe chiaramente la presenza dell'Opel Corsa di Viviana Parisi e dalla sua evisione si evince che Gioele era in auto con la madre all'uscita dell'autostrada. A confermarlo anche il procuratore di patti, Angelo Cavallo. Abbiamo acquisito un video a Sant'Agata di Militello in cui si vedono la mamma e il bambino. È un punto importante per il proseguo dell'indagine, ha detto il magistrato. Questo, secondo gli inquirenti, farebbe ritenere che Gioele si trovasse con la mamma al momento dell'incidente in autostrada, l'inchiesta aperta dalla procura di patti e contro ignoti per omicidio volontario e sequestro di persona.